Se voi avete una carica isolata, se avete una carica isolata, ha una carica uniforme, una carica isolata, ecco una bella carica isolata E guardate le linee di campo, se la carica è isolata e non c'è nessuno, l'universo è vuoto Queste linee vanno all'infinito, questo è un modo di dire, vanno all'infinito Se la carica poi è su una sfera di metallo, dovreste sapere che la carica è solo sulla superficie del metallo Che il metallo è equipotenziale, non c'è nessun campo elettrico nel materiale, nel rame E le cariche si distribuiscono in maniera uniforme, perché è una sfera si intende E le linee di campo, cioè questo si comporta, voi se siete qua, coprite con un panno nero Questo si comporta come il campo che voi vedete, quello colombiano E non sapete se sotto il panno c'è un punto o c'è una sfera Tutte queste linee vanno all'infinito Tutte le linee vanno all'infinito Questa è un'altra configurazione che abbiamo un po' discusso Dove immaginavamo che tutte le linee dalla piatta superiore andavano a finire su quella superiore C'era una carica Q qua su e c'era una carica meno Q Artisticamente possiamo rendere questa idea che c'è una linea che collega ogni carica positiva E' un modo così molto artistico o amichevole di cominciare a ragionare Dire che qua su c'è una carica Q e dire che qua sotto c'è una carica identica di segno meno Artisticamente si rende questo dicendo che tutte le linee che vanno dalla piatta positiva Vanno a finire sulla carica negativa Artisticamente è questo il modo di rendere l'idea Per esempio questa è una situazione dove questa linea di campo va a finire qui Invece a finire qui Questa linea di campo magari va a finire qui Questa è una situazione dove questa linea di campo è andata a finire su questo pezzo di metano Se magari questa linea va pure in là Queste sono situazioni molto diverse no? Qua le linee vanno tutte da uno all'altro Qua questa linea, alcune di queste linee vanno al terzo Quindi questo è un ladro delle linee Ruba linee che andrebbero, se lui non ci fosse, andrebbero qui Guardate questa situazione, questo è il modo più difficile a disegnare Forse dentro ci sono rappresentazioni su tutti i libri Magari dovrò curare il disegno, guardare bene com'è e poi farlo sulla lavagna Magari sul pomeriggio lo disegno meglio Ma a mano libera, molto così senza avere in mente purtroppo l'immagine un po' più dettagliata Questa è una carica con due cariche positive e questa è una carica con una negativa Le cariche sono diverse, segno opposto ma diverse Non è un dipolo questo, avrà un momento di dipolo ma non è un dipolo In un dipolo, cosa sapete del dipolo? In un dipolo, se questo è un dipolo, tutte le linee tranne eventualmente questa qua Che se ne va all'infinito e questa qua, ma tutte le altre escono da qua e vanno a finire qui Tutte, 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 tranne al limite questo qua che un matematico Derebbe un insieme di misura nulla Però a parte quella unica linea che va all'infinito Tutte le altre vanno dal positivo al negativo Qua no! Perché? Se questo è di carica meno 1 magari ho disegnato 4 linee che escono Questa è una carica doppia quindi artisticamente lo disegno con il doppio di linee Ma non tutte le linee che escono qua vanno fino a qua Questo può prendersene solo 4, non può prenderne 8 Mettiamola così Quindi questa linea qua non va a chiudersi come farebbe un dipolo qua Perché questo essendo di una carica meno 1 Nella mia rappresentazione artistica Dire che hanno carica diversa vuol dire che il numero di linee che sbucano Questo è un porcospino peloso e questo è un porcospino un po' pelato A meno spine Quindi lui può prendere solo 4, non può prendere 8 Quindi già questo è un racconto così da scuola elementare A farvi capire che quando le cariche sono diverse Queste positive non tutte vanno a finire qua, alcune vanno all'infinito A differenza del dipolo Nel dipolo le cariche sono assolutamente uguali E quindi tutte le linee che questo emette vanno a finire qua Tranne l'unica che, ripeto, matematicamente ricordo Ci siamo capiti? Notate la differenza in queste situazioni? Queste situazioni qua diremo, magari in un'espressione che io uso Diremo che tra le due piastre c'è induzione elettrostatica completa Con questa espressione intendo dire che tutte le linee vanno da una piastra all'altra Questa è incompleta perché c'è un lato di linee Questa è incompleta, se questa fosse una sfera di rame Una sfera di rame, non tutte le linee, quindi questa è induzione elettrostatica ma è incompleta Allora, quando siamo nella situazione che tutte le linee vanno da uno all'altro Quindi abbiamo due, anzi voglio usare il linguaggio un po' più preciso Immaginiamo che questi siano pezzi di metallo, ok? Questo è proprio un pezzo di metallo, chiamiamolo elettrodo Quando abbiamo due elettrodi, due elettrodi Introduco un concetto molto elementare, poi c'è la versione più complicata Che alcuni di voi, gli elettrici, vedranno in altri corsi Sto per parlare di concetto di capacità, così capite dove sto andando a parlare La definizione elementare che do io, perché siete avvisati che poi il concetto è molto più sofisticato Quando le situazioni sono più complesse Noi facciamo un'introduzione, la versione semplice della definizione Nella versione semplice della definizione ci sono due elettrodi E tutte le linee, uno è a carica positiva L'altra è a carica esattamente uguale ma negativa Tutte le linee elettriche che vanno da uno vanno a finire sull'altra Ok? Quindi questo non è il tipo di capacità che sto parlando Infatti diremo che questo qui, questo elettrodo qua e questo elettrodo Diremo che c'è una capacità parassita E' un parassita Lui si piglia le linee che non... Questo qua, tra questo accoppiamento Voglio usare questa parola, accoppiamento Voi siete giovani, pieni di ormoni Magari vivete, ma si parla così C'è un accoppiamento elettrostatico Tra questa piastra e questa piastra C'è un accoppiamento anche tra questa sfera Ma è di tipo parassitario Ci sta disturbando Quindi nel trattamento ideale e elementare che faccio io Non considereremo questo tipo di accoppiamento parassita C'è un accoppiamento capacitivo Stiamo per parlare di accoppiamento capacitivo Qua c'è un accoppiamento capacitivo tra questa piastra e questa sfera Ma è parassita rispetto a quella principale Che è quella che vorremmo discutere Quindi non consideriamo il accoppiamento parassita D'accordo? Quindi per me... Allora questo è un po' il discorso che voglio cominciare a fare Torniamo qua un attimo Se io vi chiedo qual è il potenziale elettrostatico Di qualsiasi punto che appartiene alla sfera Poi scrivete quel risultato lì Certo, visto che non ho scritto niente qui Sto dicendo che ho scelto come potenziale all'infinito uguale a 0 D'accordo? Quindi quello è il potenziale di tutti i punti appartenti nella sfera A un punto interno, a un punto sulla superficie Tutto il pezzo di materiale di questa sfera Ha lo stesso valore di potenziale elettrostatico Adesso... Il concetto di capacità è questo Si definisce in questo modo Avete due elettrodi Uno accarica Q, l'altro accarica meno Q Questo è chiaro Induzione elettrostatica completa Perfetto, tutte le linee vanno da uno a finire sull'altro Quindi per dire quant'è la carica Q in volta Vi basta Q Perché una piastra accarica Q Un elettrodo accarica Q L'altro accarica meno Q Tra le due piastre, tra i due elettrodi Tra i due elettrodi C'è una differenza di potenziale Qual è quella differenza di potenziale? La chiamiamo delta V La capacità per definizione è la carica Quale carica? La carica che i due elettrodi condividono Certo, 1 è positivo e l'altro negativo Ma la quantità, il valore assoluto della carica è Q Quindi, tra la carica che caratterizza la capacità La carica che caratterizza la coppia di elettrodi Diviso la differenza di potenziale Questa è la definizione Allora, guardate la sfera isolata Pensiamo all'infinito Punti all'infinito Come una superficie con potenziale uguale a 0 Stiamo dicendo che all'infinito il potenziale è 0 Quindi io posso parlare della capacità di una sfera isolata In realtà è accoppiato capacativamente con l'infinito E c'è una induzione elettrostatica completa tra una sfera e l'infinito Tutte le linee dalla sfera vanno all'infinito L'infinito si ripiglia tutte Quindi dovete immaginare una sfera infinitamente grande E la nostra sfera Qual è la capacità? La definizione è Q diviso il potenziale Qual è il potenziale della sfera? Eccola la Qual è il potenziale dell'infinito? 0 Qua il potenziale vale 0 Il potenziale dell'infinito vale 0 Qua il potenziale sulla sfera vale questo Qual è la differenza di potenziale? Ovviamente è 1 su 4 pi greco e y 0 Quindi cosa faccio? Q diviso la differenza di potenziale E qua è la differenza di potenziale E cosa viene? Q va via QQ Questa roba è nel denominatore Quindi vede 4 pi greco e y 0 Quello che ho appena scritto È la capacità di una sfera isolata Ok? Quella è la capacità di una sfera isolata Perché ho guardato la riflessione e ho risposto la domanda La capacità cos'è? È la carica Quale carica? La carica che c'è su uno o qualsiasi Dei due elettrodi in induzione elettrostatico completa Cosa si intende per induzione elettrostatico completa? Cosa si intende WIS Intende dire che tutte le linee del campo Del campo elettrico che vanno da un elettrodo Vanno a finire sull'altro Quindi io applico questa definizione Capacità è uguale a Q diviso la differenza di potenziali La applico all'esercizio Una sfera isolata Tutte le linee della sfera isolata vanno all'infinito Qual è il potenziale della sfera? Ok? Qual è il potenziale all'infinito che si piglia tutte le linee? È 0 Quindi cos'è Q sulle differenze di potenziale? Viene fuori 4 pi greco e 0 r Questa è la capacità di una sfera isolata Quanto vale? Che valore può avere? Epsilon 0 cos'è? Epsilon 0 sapete che è 8,85 punto per 10 alla meno 12 farad su metro Lo moltiplicate per un metro Perchè R è un metro La capacità in cosa si misura? Farad Ok? Questo è farad su metro Lo moltiplicate per un metro Lo ottenete nel sistema internazionale Questo si misura in farad Quanti farad? Beh dipende dal raggio della sfera no? Allora questo è 4 pi greco cos'è? Pi greco è Facciamo fita che sia 3 4 per 3 fa 12 Facciamo fita che Questo è circa 10 Quindi questo è circa 10 Facciamo così Facciamo così 4 pi greco per 8 è 85 Per 10 alla meno 12 farad su metro Che moltiplica R E facciamo una sfera di raggio di 10 centimetri Con una sfera di rame grosso così? Perchè no? Quindi R uguale a 0,1 metro Quindi abbiamo 10 alla meno 1 metro Cosa viene fuori? Qual è la capacità di una sfera Di un diametro di 10 centimetri grosso così Di rame Rispetto all'infinito Cioè una sfera isolata Questa non è una sfera isolata no? Perchè le linee Alcune vanno all'infinito Alcune vanno qua Questo è un lato di linee Io voglio che tutte vadano all'infinito Allora attenzione cosa intendo per schisolato D'accordo? Quanto vale? Coraggio, fate il numero Questo è circa 10 Questo è circa 12 Quindi questo è circa 120 120 per 10 diviso 10 fa 12 Quindi ho 12 picco farad Cosa sarebbe per una sfera di 1 metro? Cosa sarebbe per una sfera di 1 metro? Domanda viceversa Ok questa è la capacità Che avrà un certo valore Facciamo 12 picco farad Quindi scegliamo questo cos'è? Per r uguale a 0,1 metro Abbiamo circa Facciamo 10 picco farad La bella cifra tonda Ok? 10 picco farad Qual è la differenza di potenziale Tra la sfera E l'infinito Se su quella sfera mettete Non so Un micro coulomb Cioè se voi mettete un micro coulomb Qual è la differenza di potenziale? Tra qua e l'infinito Cioè è la stessa cosa A quale potenziale si trova la superficie? Avete due modi per farlo O calcolate così Mettete dentro Cos'ho detto? Un micro coulomb Mettete un micro coulomb qua E mettete dentro il valore E calcolatelo così Oppure se qualcuno vi da la capacità Vi fa lo stesso numero no? Perché la carica La differenza di potenziale Da questa formula qua Che è la vostra definizione Vedete che è q diviso c Ovviamente no? q diviso c Questo è c Quanto viene? Calcolatelo subito C vale 10 picco farad Quanto è la differenza di potenziale? Allora la differenza di potenziale La differenza di potenziale è uguale a q diviso c Quindi mettiamo Cos'ho detto di nuovo? Un micro? Ho detto un micro? Quindi 10 alla meno 6 coulomb diviso 10 picco E 10 picco sono 10 per 10 alla meno 12 falad E questi sono un certo numero di volt E quindi questo è 10 alla 11 Fate voi il conto Quindi questo è 10 alla meno 6 diviso 10 alla meno 11 Cioè questo è 10 alla meno 6 per 10 alla 11 giusto? E quindi sono 10 alla 5 volt 100.000 volt Se non ho sbagliato il conto Rispetto all'infinito si intende Qual è la capacità qua? Come si calcola? Delle piastre parallele Veloci Partelo Domanda classica Si parte dalla definizione no? Per la peppa Prima vi chiedete Ma c'è induzione elettrostrada completa? Si Di che carica parliamo? Beh mettiamo una carica q sulla piastra in cima E la carica meno q sulla piastra sotto Ok? Adesso immaginiamo un elettrodo con una forma precisa Facciamo un conto con una stima Quindi questo è un elettrodo magari di forma quadrata o rettangolare che ha una certa area A Ok? Quindi qual è la densità di carica sulla superficie? Facciamo una idealizzazione Quindi stiamo facendo una stima che sia costante E cosa sarà? Sarà la carica diviso l'area D'accordo? Qual è la differenza di potenziale tra le piastre? L'abbiamo fatto questo Non vi ricordate? La differenza di potenziale tra le piastre è uguale al campo elettrico diviso per la distanza Giusto? Questa è la distanza tra le piastre Perché il campo elettrico Vi ricordate che qua dentro c'è l'equazione di Laplace Che nella versione lineare visto che questo dipende sulla dx era la derivata seconda di v La dx è uguale a 0 Quindi la v era una funzione che era una costante Quindi era una cosa del genere E questo sta andando su E' lineare E qual'è il legame? Il legame è questo Ma quanto è il campo elettrico all'interno di una qua dentro? Lo sapete? Il campo elettrico è uguale al E quindi vedete che Questo può essere scritto così Come Q diviso A per D diviso Epsilon 0 E quindi la differenza di potenziale la scrivete così Lo scrivo qua Q di A diviso Epsilon 0 Ma sapete che per definizione Questa roba qua Che C per definizione E' uguale a Q diviso A delta V Quindi questo è delta V Quale è C? Per ispezione C E' uguale a? Quanto è C? Giusto? Vedete dov'è la Epsilon 0? Torna no? Perchè in cosa si misura la capacità? In fara Quindi avete fara su metro che moltiplica un metro quando misura un metro Quindi viene fuori farlo Vedete come l'ho fatto? L'altro modo per farlo è questo Uno dice E' lo stesso modo Ma così Questo tira in bagno un sacco di cose C'è il risultato Ma uno dice Ok questa è una piastra Questa è un'altra piastra Immaginate che qua su ci sia la carica più e la carica meno Ok? Qual è la differenza di potenziale Tra qua e qua? Cosa fate? Come si fa a calcolare la differenza di potenziale? La differenza di potenziale V Che so L'integrale di corvelineo da un punto A a un punto B Per il campo elettro statico E' uguale a VA-VB Ok? Quindi il campo elettrico sapete qual'è? E' la stessa cosa Familiarizzatevi con questo conto Parte dalla definizione La definizione è La C è uguale alla carica Diviso la differenza di potenziale Qual'è la differenza di potenziale? C'è la punti su questo elettrodo E questo elettrodo Qua hanno tutti lo stesso potenziale Qua hanno tutti lo stesso potenziale Qual'è la differenza di potenziale? Dovete calcolare il integrale di corvelineo Lungo una qualsiasi curva Che collega un punto qua a un punto qua Ma alla fine Siccome il campo elettrico Le linee di campo elettrico Sapete come è fatto Perchè abbiamo usato la legge di Gauss Per studiare la linea di campo elettrico Voi calcolate che questa roba qua E' proprio uguale a Sigma zero diviso Epsilon zero per D Perchè questo è il campo elettrico E D è la distanza netta Di cui dovete spostarvi Per andare da questo punto a questo Questi spostamenti qua Non contribuiscono all'integrale Equipidino Giusto? Il campo è conservativo Quindi scegliete un percorso Che è più indicato per voi Per esempio andate così Spostandoli da qua a qua Non cambia affatto il potenziale Poi andate a diretti A questo punto a questo punto Giusto? Vi darà lo stesso valore Perchè il campo è conservativo Vedete come ogni esercizio diventa un'occasione Per ricordare un sacco di cose Sta a voi continuare a farvi domande In modo che emergono cose Visto a tempo fa Voi dovete calcolare La differenza di potenziale Una volta che l'avete calcolato Questo DELTA V Una volta che avete calcolato DELTA V Tornate alla definizione di C Q diviso DELTA V La mettete dentro E calcolate dunque C Semplice Immaginate questi due elettrodi In induzione elettrostatica completa Una sfera E un'altra sfera Coassiale Cocentrica Si dice così Perchè non sono centri Quindi non è coassiale A condividere lo stesso centro Questo di R1 E questo di R2 Immaginate che siano In accoppiamento capacitivo Cioè tutte le linee da 1 Vanno a finire sull'altro Questo è facile Immaginate che Uno abbia carica Q E l'altro carica meno Q Quindi questa linea Se questa è la positiva Va da qua Alla sfera Quindi tutte le linee Vanno dalla sfera interna Alla sfera esterna Quindi se la sfera interna È positiva Q La sfera esterna Ha esattamente La stessa carica Ma di segno opposto Tutte le linee Tutte le linee No? Questo è un Due elettrodi In accoppiamento capacitivo Due elettrodi Si dice capacità Un condensatore Forse la parola Che gli italiani usano In inglese Non si dice condenser Si dice capacitor Condensatore Credo che sia una vecchia parola Comunque si usa in Italia Quindi Un condensatore Cos'è? Un condensatore Cos'è? È fatta di due elettrodi In accoppiamento capacitivo Completo Tutte le linee Vanno da uno all'altro Ok? Questo è un condensatore Semplice Questo è un condensatore Una sfera isolata È un condensatore Ma qual è l'altro elettrodo? L'infinito Due sfere concentriche Sono un condensatore Due piastre parallele Sono un condensatore E qual è la capacità qua? Calcolatelo dunque Che aspetto ha? Capacità per definizione è Q Quale Q? Beh Più Q o meno Q È la Q Che c'è su un elettrodo E meno Q è sull'altro D'accordo? La Q Caratterizza l'accoppiamento Completo Tra i due elettrodi Diviso la differenza del potenziale Quindi per il calcolo La capacità di due sfere concentriche Qual è la difficoltà? Calcolare la differenza del potenziale Ma è difficile Qual è la differenza del potenziale Tra un punto qua E un punto qua O un punto qua E un punto qua Potete andare in mille modi In infinità di modi Potete spostarvi lungo questo E poi andare radialmente O potete andare radialmente E spostarvi così O potete fare tutti i giri che volete Tanto il campo è conservativo Ma com'è il campo elettrico Generato dalla sfera Il campo elettrico Qua dentro com'è? E' di tipo colombiano No? Uno su R quadro Quindi voi dovete fare Se la sfera interna è quella positiva Il campo elettrico sta facendo così E' il campo elettrico Quindi l'integrale da un punto interno A un punto esterno Del campo elettrico Questo è lungo una qualsiasi curva Scusate, non una curva chiusa Lungo una qualsiasi curva In realtà diventa un'integrale ordinario State andando dal raggio R Chiamiamolo R1 con l'interno O R A con l'interno A Questa è la sfera A E questo è il raggio R B Ok? Da R A a R B Quello è il vostro integrale Per calcolare la differenza di potenziale Per andare da qua a un punto qui Da R A a R B lungo il campo elettrico Il campo elettrico è un'integrale Si, però è diventa un integrale ordinario Del ragionamento che abbiamo già fatto Quindi Cos'è questo? È meno 1 su R A O meno 1 su R Valutato tra R A B e R A Quindi questo è 1 su qualsiasi curva Epsilon 0 1 su R A meno 1 su R B E dove c'è la Q? La Q lo dimentica? Q Q Q Q Quello è il differenza di potenziale E quindi quanto è la C? Guardate Quale è la capacità? L'ho portato su questo Capovolto? Se volete, se non vi piace questo modo di scrivere E allora potete espandere questo E allora potete espandere questo Quindi questo diventa Vabbè Q su 4 più greco Epsilon 0 Avete R A Aspetta sarebbe R B meno R A Diviso R A per R B E quindi questo può anche essere scritto così E quindi questo può anche essere scritto così come E Che caldo E di nuovo una verifica che ha fatto bene i conti Guardando in cosa si misura questo C E' meglio che venga fuori faro Sennò ho sbagliato no? Questi sono faro su metro Questi sono metri quasi Il denominatore è metro Quindi l'ho fatto giusto Ok? Semplice no? Dovete partire dalla definizione E la definizione ha senso Perché vi state chiedendo O due elettrodi Su uno c'è Q Uno sull'altro c'è Q Meno Q Quindi tutte le linee di campo Vanno da uno all'altro C'è una differenza di potenziale tra i due elettrodi Un pezzo di metallo è Q potenziale E un altro pezzo di metallo ha un altro potenziale Qual è la differenza di potenziale? E' una domanda legittima no? E quindi C cos'è? E' Q diviso la differenza di potenziale tra i due elettrodi Semplice Tenete a mente la definizione E sappiate calcolarlo con piccole e semplici configurazioni Allora torniamo la sfera isolata Anzi torniamo le due sfere Questa è la sfera A Questa è la sfera B E oltre alla sfera B cosa c'è? L'infinito Questo è l'infinito Quindi Supponiamo di farvi la domanda Qual è la capacità Qual è la capacità Della B da sola, isolata, rispetto all'infinito? Quindi la capacità della B con l'infinito Magari scrivo questa notazione qua La scrivo come Quattro pi greco Epsilon zero Rb Giusto? L'abbiamo calculato prima Qual è la capacità Della A da sola con l'infinito? La A da sola è Quattro pi greco Epsilon zero Ra Qual è la capacità della A con la B? Questo è Quattro pi greco Epsilon zero Uno su Ra Meno uno su Rb Alla meno uno D'accordo? Va bene? Allora io faccio un giochetto Controduco un piccolo simbolo Che può essere utile Che poi alcuni di voi rivedranno Quando parlerò di accoppiamento capacitivo Tra due pezzi di metallo Mi ricordo questo Una piastra e un'altra piastra Diventa in qualche modo Il paradigma, l'icona, l'esempio La madre di tutti gli esempi Di un condensatore E due piastre parallele Quindi questo simbolo qua Diventa una specie di icona Diventa l'icona Allora se voi avete un pezzo di metallo E un altro pezzo di metallo E sto parlando di un accoppiamento Magari capacitivo Magari non è completo Perché alcune linee non vanno a finire Tutte da qua a qua Farò così Con questo simbolo Sto intendendo dire Che c'è un accoppiamento capacitivo Tra questo pezzo di metallo E questo pezzo di metallo E questo pezzo di metallo Magari ce n'è uno anche tra questo Questo simbolo qua È un modo per Promemoria Un modo veloce Per ragionare in termini di Accoppiamento capacitivo Ci sono delle cariche qui Le linee di cariche qui Alcune vanno a finire qui Alcune linee di cariche Vanno a finire qui Alcune linee di cariche Sto dicendo linee di campo Alcune linee di cariche Alcune vanno da qua Alcune vanno da qua Alcune vanno da qua Alcune vanno da qua C'è un accoppiamento capacitivo D'accordo? Ci siamo? Allora Con questo simboletto qui Io ho Pensate a questo Ho un accoppiamento capacitivo Tra la sfera A e la sfera B E ho anche un accoppiamento capacitivo Tra la sfera B e l'infinito Dicegnare due capacità così Dico che sono in serie Ok? Quindi Due capacità in serie La chiamiamo C1 e C2 Equivalgono a un'altra capacità A una sola capacità Chiamiamola qua la C equivalente E la regoletta sta valendo Da questo esercizio qua Guardate un attimo Che ore sono? Quindi questa qua è la A con la B Questa è la B con l'infinito Poi ovviamente a rigore C'ho anche questa qua Che è l'equivalente Con la C con la A che va all'infinito Eh? La A che va all'infinito È equivalente E vorrebbe essere equivalente a questa No? A queste due in serie E verificate che è vero? Sì Vediamo se è vero E qual è la regola? La regola sarà questa Che è la 1 su C equivalente È uguale a 1 su C1 Più 1 su C2 Vediamo se ho fatto bene i conti Questa è la regola Quando due condensatori sono in serie Non si sommano le capacità Ma si sommano gli inversi delle capacità Quindi l'inverso della capacità equivalente È la somma degli inversi delle capacità Vediamo se è vero o se ho sbagliato Cominciamoci un attimo Cliccato Cliccato Vediamo se dove posso scrivere qua Mi pare che si veda no? Cioè se inverto questo Questo va sotto E questo devo semplicemente eliminare questo E quindi vedete che 1 su CAB È uguale a 1 su CA Meno 1 su Questo è la A con l'infinito Si intende No? Faccio i passaggi prestesi Va? Si vede Però magari alcuni di voi Non siete particolarmente lucidi Quindi faccio 1 su 4 pi greco Epsilon 0 R A Meno 1 su 4 pi greco Epsilon 0 R B Interpreto questo come 1 sulla capacità della sfera isolata A E quindi vedete che ho 1 sulla capacità della sfera isolata A Isolata con l'infinito Posso pensarla come Questo è uguale a Quindi vedete che io posso pensare di andare prima qua e poi continuare Quindi questo è il cambiamento capacitivo della A con la B Con la B con l'infinito E il netto è con l'A con l'infinito E vedete la regolamento della capacità Le capacità in serie Le capacità in serie Si sommano in questo modo 1 sulla capacità equivalente Quindi questa è una capacità che è in serie con un'altra E se questa è capacità 1 e questa è capacità 2 La formula è che 1 sulla capacità equivalente è uguale a 1 su C1 più 1 su C2 Attenzione Vi do una dritta Alcuni di voi magari non amano questa scrittura qua E avrebbero fatto cosa? Avrebbero invertito Trovato il denominatore comune Bla 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 Perché questa è la formula più carina? Perché è generalizzabile in modo ovvio Se voi avete una catena di tante capacità Tutte in serie Un numero, per esempio qua ne ho disegnato 5 Qual è la capacità equivalente? La capacità equivalente è uguale alla somma Di 1 sulle capacità singole Da 1 a n Quante ne volete La formula è facile Se invece voi girate queste e scrivete la capacità equivalente a Cosa sarebbe? Non sono bravo C1 C2 diviso C1 più C Questa formula è più E meno utile Non vi pare? Come si generalizza se ne avete 5 di fila? Quindi insistere a girarlo Vi date la zappa sui piedi E' una formula molto più utile questa Generalizzabile in maniera immediata Un'altra cosa che i meccanici vorrei che notassero Se questo è un pavimento in cui è conficcata una molla Questa molla ha costante elastica 1 Poi attaccate un'altra molla Di costante elastica 2 Di costante elastica 2 E poi ci mettete la massa Il pavimento è liscio Qual è la costante elastica equivalente? Sono due molle collegate in serie Convincetevi che questa è equivalente a una molla Con costante elastica equivalente Con costante elastica equivalente Con costante elastica equivalente E' esattamente la stessa forma della capacità E' esattamente la stessa forma della capacità Questo per esempio è molle in parallelo Queste sono molle in parallelo Queste sono capacità in parallelo E qual è la formula della capacità in parallelo E delle molle in parallelo? Non vincetevi di questa parte Se mettete due molle così E' più rigido Se mettete due molle così E' più flacido Se mettete due molle uguali La molla equivalente è più flacido Pensate così Se mettete una molla rigidissima Una bella molla rigida E poi una molla flacida E' attaccata la nostra Qual è il comportamento della molla equivalente? Qual è il comportamento della molla equivalente? Se questa è rigida Questa flacida E' chiaro che domina il comportamento flacido No? Giusto? Se invece mettete una Rigida In una flacida E' chiaro che domina era rigida Quindi se voi mettete due rigide Avete una cosa ancora più rigida Se mettete due molle qua Attenzione! E' meno rigida di quando c'era una sola Ragionate così C'è un'analogia Tra il comportamento Di una capacità e di una molla C'è una certa analogia formale Poi sfrutteremo degli esercizi Ah, un avvertimento Questa qua, secondo voi, cos'è? Vediamo Queste sono molle in serie o in parallelo? No In serie No In parallelo Questa Dovete usare la testa Non vi pare Questa Equivalente a questa Non fatevi ingannare Dovete usare la testa Questa qua Sono in parallelo Se qua ne mettete una rigida E qua una rigida, secondo voi E' ancora più rigido E' legato da entrambi i labbi No? Se qua sostituite Una flacida Più flacida di niente No? La molla più flacida assoluta E' una molla che ha costante elastica 0 Cioè non c'è D'accordo? Quindi, se mettete una flacida qua Cos'è? E' chiaro che domina questa Invece ribadisco il concetto Se qua mettete una flacida Qual'è quello che domina? La flacida Quindi aiutatevi con queste metafore Perché sono molto forti Sono molto forti le analogie Tra il comportamento di un condensatore E il comportamento della ruota Ci vediamo alle due Spero 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 Spero